Sì, alla grande solidarietà del Rotary Club di Oristano. Questa è una delle tante iniziative e dei tanti doni che il Rotary Club di Oristano fa alle persone meno fortunate, perché noi del Rotary in tutto il mondo ci occupiamo appunto di fare del service per le persone meno fortunate, per le persone fragili, per le persone che hanno delle disabilità, per le famiglie, insomma per tutti quelli che hanno come prima parola il bisogno. Questa è una delle tante iniziative che è stata offerta dal Rotary Club di Oristano. Si tratta di un elevatore per la piscina, donata alla piscina comunale di Oristano, grazie all'interesse di tantissime persone che si sono effettivamente operate per l'acquisto di questo straordinario macchinario che permetterà alle persone con disabilità motorie di entrare e di uscire dalla piscina in maniera in tutta sicurezza. Grazie. Perché a breve, anzi a brevissimo, il Rotary Club di Oristano farà un altro eccellentissimo dono. Si tratta di una pedana per la scherma, sempre per le persone disabili, la cui consegna verrà officializzata a breve. Il progetto invece futuro, cioè per i fondi raccolti con la prossima Rotary Corre, verranno destinati al progetto Poseidone. Il progetto Poseidone ha come fine quello di dotare le nostre bellissime spiagge, il nostro bellissimo mare di passerelle e sedi ad hoc per far sì che le persone con disabilità motorie possano finalmente raggiungere e godere dei nostri splendidi mari e delle nostre splendide spiagge. Grazie a tutti.